Questo gruppo è impreziosito dalla presenza femminile, meravigliosa, violino e violoncello, Valentina del Re e Chiumi Lee. Il gruppo comincia a formarsi, ma manca un elemento armonico, un fatto di tasti medie e tasti bianchi, al nostro canzino il mister Coffi, Daniele Rossi. Mi presento da solo, faccio parte del giro, alla chitarra c'è anche il duo per io per Stancinini. Ma quando entra il basso, e ci si comincia a muovere, e noi abbiamo il possente, il delicato allo stesso tempo, Gabriele Lazzarotti. E adesso sentite che succede, guardate una pelle, parte il motore, il motore del gruppo ha la batteria, a putzio parellene! E adesso sentite che succedere! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.